Ciao a tutti, mercoledì 24 marzo alle ore 15, la Dernana sarà impegnata a Potenza, il Viviani, partita difficile, l'avversario è un avversario in salute, una squadra che da quando ha preso Gallo come allenatore sta crescendo sempre di più e sta facendo punti e risultati importanti, quindi è una partita assolutamente da non sottovalutare e da giocare al massimo delle possibilità ovviamente, diciamo così. La partita di Teramo e quella con la Pipponese influenzeranno un po' le energie fisiche dei giocatori ma sicuramente la nostra squadra darà il meglio per vincere la partita con il Potenza, Potenza allenato come ho già detto da Fabio Gallo, Fabio Gallo ex allenatore delle fere che conosce moltissimi dei giocatori rosa di questa squadra. Quindi sicuramente sai pregi e difetti di ognuno e questo può essere un fattore che determinerà lo schieramento del Potenza e come imposterà la partita dalla sua squadra. Per altre cose insomma partita come ho già detto difficile basti pensare che il Potenza ha battuto il Bari eccetera. Quindi bisogna affrontarla bene, l'Aternament ovviamente è la squadra da battere, è la capolista e affronterà la partita con la giusta voglia di voler vincere e di gestione delle energie perché comunque si gioca molto. Ovviamente si guarda molto in questo periodo la classifica, si cercano di fare più tabelle possibili ma mi auguro insomma che i ragazzi non pensino a questo ma pensino semplicemente a giocare, a divertirsi, a vincere la partita. Poi la promozione arriverà in una delle giornate restanti. Altre cose insomma che vi volevo sostanzialmente dire è che l'associazione Eterni col Cuore creata e fondata dal presidente Stefano Badecchi aiuterà le famiglie ternane anche per Pasqua e a breve partirà un progetto chiamato il Trail Blue che credo riguardi i bambini autistici e quindi davvero un grande merito di questa associazione di essere sempre solitale con il territorio ternano. E' di essere al fianco dei cittadini. Torno un attimo insomma sulla questione e petizione del progetto Stadio Clinica perché è importante insomma capire la portata di questo progetto, che questo progetto significa occupazione, che questo progetto significa rilancio economico per la città di Eterni, nuovo sviluppo e che questo progetto sostanzialmente significa in poche parole una rinascita della città. A livello economico, a livello imprenditoriale ma anche sanitario e quant'altro. Tornando insomma al calcio giocato, mercoledì sarà una partita assolutamente importante che determinerà il futuro del campionato perché ovviamente è una partita di recupero e se vogliamo è quella partita in più che la ternana ha rispetto agli avversari e questo significa che è un match point importantissimo perché potresti andare a più 12 sull'avellino senza possibilità che l'avellino contropassi. Il campionato non batta ovvero non gioca quindi il più 12 in caso di vittoria è matematico senza attendere nessun altro risultato e poi il campionato lo potresti decidere o col bisceglie o con l'avellino stesso il 3 di aprile. Quindi ci avviciniamo al giro di boa e alla matematica che prima o poi arriverà.